Bella che chi trova risieme grazie, siamo tornati qui con un nuovo video di Abbo Oggi si torna a rimorchiare i tredicenni arrapati E siamo qui con Ramona che nel frattempo ha aggiunto una X Perché purtroppo è stato bannato l'account Non so da chi, cioè da quello che si spaccia a moderatore probabilmente tutti i commenti Comunque no, è stato bannato e probabilmente è a rischio questa serie Perché non abbiamo più email per fare, per accedere a questo gioco Abbiamo prato a carne una ma adesso chiedono il numero di telefono per confermare l'identità Non è più come una volta che poti creare quante email ti pareva Mamma mia, mi ricordo che ho i sordi dei media Quindi regà, dobbiamo stare un po' più attenti a non farci bannare E niente, andiamo subito, qui siamo in discoteca Cioè siamo in discoteca oggi e vediamo di rimorchiare qualcuno Ma che c'è star, diavolo? Noi cosa facciamo appena entriamo in discoteca? Siamo una ragazza, andiamo al bancone a ballare Perché in pista c'è poca gente Però mettiamoci a ballare con questo, magari lo abbordiamo Eccolo che me l'ha chiesta Eccolo, ecco, arriva lui, arriva lui Lui è, Sami Allora ci hanno scritto, aspettate Allora, mi hanno scritto un po' di gente Sono lo stesso, Simo Playboy e Sami No, che cappa note, prego Non ho iniziato, scusi, giuro Tu credi nella vita al di fuori della terra? Sì Ma che è una conversazione tra mongoloidi Ma che ha fatto? Caffetteria No, 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 amicizia, perché è 48, vedi? Sono lo stesso, sta qua, anche lì Allora, vediamo Dov'è Caio Bagnino? Regà, no, se ci sta, sta qua Ma c'è te Empire, il dolcettino Allora, io mi metto qui, al centro Eccolo Bimbinsogno Allora, vediamo che ci scrive 19, di dove sei? Sei bella rossa? Grazie Allora, vediamo se ci scrivono Eccolo Ciao, Anni Ciao, subito, diretto Ciao, 17 Non di T La mit o non la ui bimbi minchia Cioè, non è che... Che mi dici? L'hai scritto con la k, vero? No, purtroppo non l'ho scritto No, meno male Allora, io voglio rimorchiare qualcuno Andri, Andri Voglio rimorchiare Andri Eccolo Attenzione, doctor Mi chiede l'amicizia Rimorchiare Bagna Rai Prima dimmi Qualx qua Qualx, capito? Qualx Allora, aspetta che cominciano a essere troppie Hai scritto due volte sbagliato qua Ciao Ma non lo so Forza Milan Viva le vacanze De Cristo Z Te? De... Aspetta, aspetta, aspetta De Cristo Segui anche te Dread Aspetta Ci, ovvio Segui Dread Incredibile Aspetta Abbiamo trovato un fan di Dread Chi altro Segui Di Youtuber Volevo scambiare qualche foto Piacere Piacere Vincenzo Piacere Quando cambio di penne Ramona Chi 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 Attenta Ti spunta un po' il perizoma da dietro Ma che è? Ups Grazie Sei il mio eroe Silenzioso Me la godi Illuminati Crewmates Non è Che sei Tipo uno Dei Grananas O Dread Che stanno Facendo Il video Ma che fai? È tutto il contrario La legge del contrapasso O del compasso Quanti anni hai tesoro? Questo è già Alto 2181 Capiti scuri Occhi verdi Magro Un po' di muscoli E sotto Il metà Ecco che ci ribanneranno Quest'account Sono alto Abbastanza atletico Come fisico Occhi e capiti castagni Ho 19 cm Ah questo lo sai Direttamente Ma cui hai dovuto chiedere No Perché A me piacciono Quelli Grandi In tutti i sensi 21 Lui c'era Blackjack Blackjack Aspetta Ciao Anni 3 Tu 14 Vediamo la gente Non si spinge 14 Tu Ehi Vuoi venire da me? Non preferisci vederlo? Faccio un cambio Non preferisci Non preferisci Non preferisci Vederlo Ho tiltato Non preferisci Faccio un cambio di niente Perché si è scordato Il lo No però no Noi non preferiamo Vederlo Fortunatamente Voglio scegarmi Scegata madonna Te lo mostro per c... Basta Basta Madonna mia Tu ti sono un goloide Tanto non ci fai un cazzo Dimmi come Dimmi come sei tu Dumbia Dumbia mia Vabbè di Trossa dei capelli E golosa d'uccelle Alta Ah Stavo aspettando Mi dicessi di più te Ma se hai kick Ti va di sentirci là Tanto come per fare cose divertenti Ma io Prima Preferisco Farmele Dire Le cose Divertenti E poi Passo Al Pratico Tadadadam Eh ma quei 21 Pensa a come potresti vederli Ma prima voglio immaginarli Tramite Le tue parole 25 problemi Sì No mi piacciono Mi fai i miei golpi Ogni volta Perché ci hanno ballato C'è la seconda volta Già Che palle Esce Bobba Se parla lettere Eh perché prima Non è uscito Bobba Ma che sei subito Ah Ah ok Bobba Ehi Che è Considerano infinito questa cosa Ci ho Ho Bobba Ah 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 Fare quello che Non puoi fare mai È Natale È Natale È Natala a natale si può fare mi riesce a scrivere ecco proprio finito l'alizio a natale si può fare di più dove? su Bobba? su Bobba ovviamente ma non mi scrive nessuno oh ecco aspetta mammi content no davvero non riesco ho quasi 30 anni se non ho almeno una foto davanti non mi piace sorry dammi contatto che ti aggiungo allora Ramona i whatsapp o kick no scrivi metà poi metà ah ok bo bobb oggi è troll non esiste né sky né su Bobba come no su Bobba ci sono dammi il tuo contatto che ti aggiungo io su Bobba qui metà poi metà non mi fa vedere astro si ma qui ti censurano tutto allora allora cosa ti ho detto Bobba ciao ciao ehi 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 ma che è ma quanto è brutto ma che c'ha in faccia allora per chi non sapesse Bobba sarebbe la censura di Abbo perché magari qualcuno non lo sa se tu scrivi Skype Facebook tutti i social network mi ha detto il caldi per di Abbo te lo sprono cosa con Bobba quindi noi stiamo trollando facendo pensare di essere Bobba Bobba capito Skype scoop Bobba no Bobba ma dammi il contatto ma è stupido Ikype no Bobba no ho Bobba non si legge e li scrivi Bobba andrà avanti così all'infinita la situazione Bobba su Bobba non ci trovo oh mi sta a fancazzare questo ah giusto giusto come ti chiami tu ti aggiungo io facciamo prima ah non cambia niente oddio come faccio addirittelo proprio problem solving non posso certo andare al suodo qui sopra ma sto immaginando racconti così bene mi hanno già bannato qui da ti prego continuiamo su Skype o Kik ok un'altra porta B oh B B no dai ti spiemo face bob face bob ti prego io ti accarecci i fianchi e ti succhio un lobo dell'orecchio che dicono che è una delle cose sessuali più belle capito lui lo sa perché è un dottore del 1986 il lobo mi piace troppo mi fa sempre sempre a rap are bobba bobba fuori an UNGE prego u u u u u u u u u Grazie per la visione!